Ben ritrovati da Luigi di Non Solo Trash, in diretta da casa mia. Anche se ho appena fatto, un giorno fa, nemmeno, l'opinione a caldo su Kong Skull Island, volevo ancora parlare di questo argomento perché è un argomento ancora caldo in questo momento e sicuramente se ne parlerà ancora per mesi. Se non anche un anno. Perché appunto alla fine c'è da dire anche che quando ci fu il Godzilla di Gareth Edwards nelle sale cinematografiche, se ne parlò praticamente per poco. Perché effettivamente l'argomento era bello caldo appena uscì nelle sale cinematografiche, ma col passare del tempo, verso novembre e dicembre, cominciò un po' a scaldarsi e cominciò a diventare un po' freddo questo argomento. Allora c'è da dire che l'hanno pompato tantissimo con Kong Skull Island, con l'ultimo trailer, l'hanno pompato talmente tanto che ci hanno messo We Got Out Of This Place, degli Animals, una canzone simbolo della guerra del Vietnam. È un film entusiasmante. Perché è un film entusiasmante? È un film entusiasmante e delizioso. Perché è delizioso anche? Perché è un film che veramente raccoglie tutto quello che dovrebbe avere anche Godzilla di Gareth Edwards, che non ha in un certo senso. Perché effettivamente, se vogliamo proprio fare un paragone, Kong Skull Island di Roberts, lo preferisco di gran lunga di più del Godzilla di Edwards in questo momento. Perché appunto, veramente, non lo so, c'è qualcosa appunto di entusiasmante e delizioso, come ho già detto, che mi ha fatto proprio impazzire nella sua visione. Fantastici sono anche gli easter egg per i moltissimi fan della saga, per esempio il polipone che combatte con Kong, chiaro riferimento al trionfo di King Kong nell'omonimo film con King Kong, tra l'altro. E quindi questi e molti altri sono gli easter egg anche per questo MonsterVerse che hanno creato appunto, dove appunto si incontreranno in un grosso crossover Godzilla e Kong nel 2020. Nel 2019-18 hanno detto che potrebbe uscire il Godzilla King of Monsters, cioè il seguito di Godzilla di Gareth Edwards. Quindi potremmo trovare un cameo di Kong in questo sequel, che uscirà tra pochi anni. Un pregio veramente lodevole di Kong Skull Island è la trama veramente interessante, ambientata innanzitutto in un primo momento nel 1940, nel periodo della guerra mondiale, e poi successivamente negli anni 70, fine anni 70, metà anni 70, cioè in quel momento in cui la guerra del Vietnam era appena terminata. E man mano, passo passo, riusciamo a conoscere tutti i personaggi. C'è da pensare comunque che Godzilla è il punto cardine di tutta la saga che poi ha fatto uscire Kong e i suoi seguiti, i suoi remake e così via. Infatti, addirittura, per omaggiare questo grande filone di film realizzati tutti in Giappone, c'è appunto Kong che combatte contro queste gigantesche lucertole, queste lucertole che appunto vengono chiamate Skull Crawler, o in italiano strisciateschi. Questo film comunque mostra una distruzione decisamente minore rispetto alla distruzione immensa che vediamo in Godzilla di Gareth Edwards. Perché appunto Kong è solo un re, ma Godzilla è un dio. Poi, altra cosa che magari è lodevole di questo film è i personaggi. I personaggi veramente sono riusciti a salvare l'intera pellicola, che poteva sembrare in certi versi anche un po' noiosa. Molto bello è il monologo da lui stesso scritto di Samuel E. Jackson, dove appunto fa sembrare che sia veramente lui il vero protagonista del film. C'è da dire anche che il film presenta anche una buona dose di suspense che appunto accompagna lo spettatore e lo fa rimanere col fiato sospeso in numerosissime sequenze. Hildstone e Larsson appaiono una bellissima coppia ben assortita, perché appunto si denota anche una vena di sentimentale. Un piccolo accenno al sentimentale in questo film, oltre a esserci l'avventura, l'azione, la fantascienza e tutto il resto a venire. E' un mix di genere, insomma. Infatti notiamo anche questa fotografia molto low-key, che appunto ricorda quel tipo di fotografia che si realizzava nei primi anni in cui venne realizzata la prima fotografia della storia, cioè le prime fotografie della storia, insomma, perché appunto si denota molto questi colori molto saturati, molto saturati e contrastati. Infatti vediamo tonalità di colore che variano dal giallo all'arancione, al verde e al blu. Ho fatto un piccolo errore nel video scorso di un giorno fa, dove appunto dicevo che i personaggi erano molto caratterizzati. In un certo senso mi sono accorto dello sbaglio troppo tardi, quando il video l'avevo già caricato, perché effettivamente i personaggi, dovevo dire, non sono caratterizzati al meglio. Perché appunto non c'è uno sviluppo approfondito di ogni personaggio. Non ci sono sequenze fuoriluogo in questo film, ma anzi ci sono azioni che si consumano come se fossero delle azioni di un videocame. Basta magari ricordare Hildestown con la maschera a gas e con la spada samurai che combatte. Un'altra cosa che c'è da dire è che i trailer erano pazzeschi, ma comunque il film lo è di più. Bello è stato l'uso dello slow motion e degli effetti sonori rallentati, che magari riescono a caratterizzare al meglio ogni singola inquadratura, ogni singola azione che viene compiuta dai nostri personaggi, dai nostri eroi. Penso si possa dire anche ad alta voce che questo film sia una figata completa. Come ho già detto, visivamente è un film molto forte, perché appunto è ambientato verso la fine della guerra del Vietnam. Quindi negli anni 70, un periodo in cui c'era ancora morte, distruzione, corpi insanguinati, sangue, proiettili e morti a non finire. Notevoli sono le inquadrature quasi come se fossero fatte su una tavolozza, che sono appunto simili e chiare citazioni al grande capolavoro di Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, e anche una citazione alla fotografia di Vittorio Storaro. Molto interessanti e ben fatti sono i combattimenti di Kong, che risultano essere spettacolari. Nel film comunque fa il tifo sempre per Hilderstone, che è proprio lui il vero eroe della storia. Se nel film di Gareth Edwards c'era un'attesa di quasi 50 minuti per mostrare il personaggio, ossia il mostro Godzilla, qui compare molto presto. Ed è una similitudine, anzi è una comparazione che vorrei fare, perché effettivamente, essendo della stessa casa di produzione, sia Warner sia Legendary, dà una buona ragione a Kong di non essere solo sull'isola. Infatti notiamo grandi altri personaggi barra mostri, come per esempio il polpo gigante che combatte con Kong, quel muflone, quel bufalo d'acqua che esce, e appunto gli Skullcrawler, o anche quel simpatico ragno gigante che fa un po' ribrezzo, in un certo senso, agli arachnofobici. Beh, infatti comunque sono i combattimenti umani contro i mostri, perché appunto stavolta vediamo anche un po' di vero, in vero somiglianza durante gli attacchi, perché notiamo che quando nel film di Godzilla veniva tipo sparato, Godzilla, ovviamente Godzilla essendo una cosa di 60 metri, non veniva in alcun modo scalfita, ma in questo caso, anche in questo caso appunto, Kong e gli Skullcrawler non vengono minimamente sfiorati da tutti i proiettili che li vengono sparati. Notevole è anche il combattimento tra Samuel E. Jackson e Rilly, un combattimento quasi psicologico, che magari Jackson magari ricorda il generale, appunto, il colonnello che vuole in tutti i modi distruggere Kong e far vedere appunto a Kong che è l'uomo, il vero re, e Rilly che appunto decide che Kong venga, insomma, ucciso, e venga, diciamo, lasciato lì sull'isola, l'ha salvato, insomma, in un certo senso. Troviamo successivamente un John Goodman implacabile, assolutamente implacabile, non ci sono altri aggettivi per considerarlo. Insomma, si tratta di un film praticamente pulito, ordinato e godibile, quindi credo di potervi salutare e ci rivediamo.